fratelli e sorelle care amici pace del signore buona giornata sono grato a dio insieme a voi perché anche oggi il signore mi dà la vita e mi dà la gioia e il privilegio di poter meditare insieme a voi la sua parola continuiamo a leggere o meglio completiamo la lettura del capitolo 10 degli atti riprendiamo dal verso 34 ieri abbiamo letto fino al verso 33 e arriviamo fino al verso 48 in altre parole completiamo la storia della conversione di cornelio questo centurione romano a cui viene mandato pietro affinché gli venga presentato l'evangelo al verso 34 leggiamo che pietro inizia il suo discorso dichiarando che comprendeva che dio non ha riguardi personali ma che in qualunque nazione chi lo teme opera giustamente gli è gradito e questa è una grande verità dio non ha riguardi personali di agisce agisce in modo equo con tutti quello che fa la differenza è il nostro desiderio e la nostra disposizione a camminare nella sua volontà e a fare il bene allora gli siamo graditi in altre parole lui approva la nostra condotta e noi vogliamo agire tutti i giorni della nostra vita in modo che siamo graditi al signore la cosa più bella è essere apprezzati da dio certo fa piacere quando qualche persona apprezza quello che noi facciamo e gradisce il nostro modo di vivere ma la cosa più bella è quando c'è la benedizione di dio cioè quando dio attesta che noi veramente siamo figli suoi e stiamo camminando come a lui piace e quello che avvenne a giobbe del quale il signore disse a satana che si presentò nella sua presenza hai visto il mio servo giobbe non c'è nessuno non c'è nessuno sulla faccia della terra che come lui mi tema sia integro di cuore e cammini facendo la mia volontà possa il signore dire lo stesso di ognuno di noi pietro parla parla della sua esperienza di gesù naturalmente e di quello che lui ha visto con i suoi occhi e noi dobbiamo prendere spunto da questo per far sì che ogni qual volta testimoniamo del signore non facciamo altro che raccontare le nostre esperienze fatte col signore innanzitutto l'esperienza della salvezza il modo con cui il signore ha convinto l'anima nostra del peccato che viveva in noi e della necessità di essere perdonati da quei peccati il bisogno che abbiamo sentito di ravvederci di cambiare vita per poter lasciare il peccato lasciare la corruzione di questo mondo e camminare nelle vie della sentità dobbiamo testimoniare anche delle risposte che dio ha dato alla nostra vita e non sono poche dobbiamo testimoniare in altre parole di quello che le nostre mani hanno toccato di quello che i nostri occhi hanno visto e questa è la testimonianza più efficace quella più bella che non per forza deve essere caratterizzata da eventi prodigiosi non è necessario che siamo stati dei ciechi e abbiamo recuperato la vista o che eravamo schiavi di qualche vizio o eravamo vittime di sostanze stupefacenti e poi siamo stati liberati da dio certo questi sono miracoli straordinari ma ci sono quelle piccole opere che dio compie ogni giorno delle quali dobbiamo essere grati e delle quali dobbiamo parlare a quelli che ci circondano la testimonianza di pietro fu semplice molto semplice era una testimonianza incentrata su cristo e così deve essere la testimonianza e più in generale la predicazione che noi dobbiamo presentare a questo mondo e avviene qualcosa di straordinario avviene che mentre pietro sta parlando lo spirito santo scende su tutti quelli che stavano ascoltando la parola di dio io credo che ancora oggi questo può avvenire credo che ancora oggi può succedere che mentre un culto viene celebrato il signore e si sta predicando la parola di dio il signore battezza con lo spirito santo e quello che può avvenire che mentre stiamo testimoniando della grazia di dio a qualcuno quel cuore si possa ravvedere convertire e possa essere riempito di spirito santo lo credo perché gesù è lo stesso ieri oggi in eterno e le cose che sono avvenute nella scrittura sono avvenute anche per lasciare un segno di quello che succede quando noi siamo fedeli nel fare la volontà di dio nell'annunziare l'evangelo sono sicuro che può avvenire ancora oggi ma dipende dipende da come noi ci disponiamo dinanzi alla parola di dio non credo che sia stato scritto casualmente che lo spirito santo scese mentre quelli ascoltavano la parola di dio e non credo che sia stato messo a caso quel termine ascoltare perché dall'idea di una persona che assorbe ogni parola che gli viene presentata mi dà l'idea di una persona che era affamata assetata di quelle parole e che ora che le sta odendo le sta ricevendo le accoglie nel suo cuore le accoglie come una qualcosa di meraviglioso o se noi avessimo questa attitudine quando ci riuniamo insieme per celebrare il culto a dio se mentre viene presentato lo studio biblico viene presentata la predicazione della parola noi aprissimo il nostro cuore per ricevere quel messaggio nella nostra vita in modo da permettere a quel messaggio di operare in noi quanti miracoli vedremmo quante salvezze si manifesterebbero quante battesimi di spirito santo noi dovremmo contare il problema è che noi delle volte siamo un po chiusi dinanzi al messaggio dell'evangelo forse perché siamo stanchi dalla giornata dura che abbiamo dovuto affrontare o forse per altri motivi ma dio ci dia grazia da oggi in poi di avere un atteggiamento diverso riguardo alla parola del signore affinché essa possa operare efficacemente in noi quando noi siamo ben disposti dinanzi alla parola vengono sempre dicevamo cose straordinarie cose che possono arrivare a stupire anche il credente che ha più esperienza nelle vie del signore perché pietro rimase stupito nel vedere lo spirito santo scendere sul cornelio e ancora oggi il signore è capace di stupire la sua chiesa di stupire i suoi figli di stupire coloro che sperano nel suo nome noi pensiamo che i miracoli possono essere classificati e innoverati in determinate categorie no no quello che dio può fare va al di là di quello che noi domandiamo e pensiamo dice efesini 320 e anche stasera quando nella nostra comunità ci riuniremo per pregare il signore o quando quanti mi state ascoltando vi riunirete nelle vostre comunità per celebrare il nome del signore ricordatevi sempre che se il nostro cuore sarà ben disposto noi vedremo la gloria di dio manifestarsi e racconteremo di prodigi straordinari anche ai nostri giorni perché dio non è rinchiuso nel passato dio è l'eterno presente l'io sono e vuole ancora oggi stupire e meravigliare i suoi figli possa il signore stasera stupire e meravigliare ognuno di noi oggi in questa giornata non dipende dal signore dipende da quanto noi saremo pronti a confidare in lui e a credere alla sua parola possa di accompagnarci ancora in questo giorno e proteggerci con la sua mano potente la grazia del signore sia con tutti quanti noi bacio del signore grazie a tutti grazie a tutti